Dopo aver provato a trainare un trattore con un'ape ed esserci riusciti ci siamo chiesti Ma una persona potrebbe tirarlo solamente con la sua forza delle braccia? Questa è la domanda a cui risponderemo all'interno di questo video A breve arriverà mio fratello, proveremo ad attaccare una corda qui davanti e lui proverà a trainarlo Mentre per sicurezza io starò seduto al volante per controllare il mezzo Va bene dai, partiamo con l'esperimento Allora Lucas, mio fratello, è già andato a prendere la corda Adesso proviamo ad attaccarla Commettiamo due pizze stavolta Allora ti devo ancora prendere la pizza dell'altra volta Due pizze così se vinco io poi ne vinco anche una Se perdo te ne devo prendere tre Allora io dico che non riusciamo a trainarlo No in due, tu da solo Io da solo Tu da solo non ce la fai? A me un po' sì Quanto? Un metro, un metro e me Allora facciamo che vale solamente se supera questa foglia qua Se riesci a portarlo fino qua allora vale Se invece non riesce le vinco io due pizze Anzi no, una dovevo già prendergliela quindi in pratica me ne deve una poi alla fine Vediamo adesso se si riesce a trainare Vai Oh Che la fa? Dov'è? Dov'è? Qual era la voglia? Eh avanti avanti Allora ragazzi prima il Lucas non è riuscito a trainarlo Ma perché appunto c'era uno scalino per terra Che impediva insomma le ruote di continuare a girare Allora adesso abbiamo portato il trattore qui sul piano Adesso vado sopra in modo di avere il controllo del mezzo Insomma il Lucas prova a trainarlo nuovamente Vediamo se riesce stavolta qui sul piano Per da che lo accendo anche così riesco a girare il manubrio eventualmente Ovviamente tengo le marce tutte in folle E tolgo il freno a mano adesso Vai Niente, niente Non ce la fa neanche qua Ce la fa, ce la fa Ma guarda te Ma che roba Allora serve fare palestra ogni tanto Ce la stai facendo Ce l'ha fatta ragazzi, ce l'ha fatta Niente, ti devo prendere le pizze anche stavolta Per un metro però l'ha tirato Adesso dobbiamo provare con l'Antares Abbiamo scoperto che una persona da sola Riesce a trainare un trattore Questo qua sarà circa sui Se questo video arriva a 3000 like Poi proveremo anche a trainare l'Antares Che è il trattore più grande che abbiamo da 110 cavalli Vedremo insomma quante persone servono per trainare anche quello E' il trattore più grande che abbiamo da una volta da una volta da un'ultima E' il trattore più grande che abbiamo da una volta da un'ultima